Visita del governatore della campagna Vincenzo De Luca presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania venerdì scorso per l'inaugurazione del reparto di emodinamica, definita anche cardiologia interventistica. Un importante reparto che andrà ad aggiungersi all'UTIC del presidio San Luca e che sarà al servizio dell'utenza dell'intero comprensorio cilentano. Noi abbiamo realizzato questa bellissima struttura di emodinamica, l'abbiamo realizzata già da qualche mese, dovevamo venire qui a Vallo, poi abbiamo avuto problemi di Covid, quindi ne abbiamo approfittato intanto per venire ad inaugurare questa bellissima struttura che è parte di un investimento complessivo di 18 milioni di euro che facciamo nell'ospedale di Vallo. Questo è diventato con i lavori che abbiamo fatto con gli ospedali più belli della provincia di Salerno. Si vede chi entra qui ha un'immagine davvero splendida dell'ospedale. Abbiamo altri investimenti in programma, abbiamo qui l'unico centro di procreazione medicalmente assistita della provincia di Salerno, un altro dei punti di eccellenza. Lavoreremo per realizzare un distretto a Vallo di grandissima qualità, perché sapete che saremo impegnati a realizzare case di comunità, cioè medicina nel territorio recuperando un ritardo storico che ha la regione. Dunque siamo veramente molto soddisfatti.